bello ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo mio video sono Flavio e oggi andremo ad arrivare forse ai mille trofei quasi sicuramente con mio fratello perché ragazzi sapete perché ora tocca a me la pari sua data sapete perché perché anche se non ci arriviamo ora basta un taglio è per voi fa ora adesso abbiamo fatto una partita a secondi e vai a far vedere è troppo impossibile farvi vedere il replay però siamo ai 20 secondi vedi posizione 2 più 4 io ero il primo e lui era colto sopra il primo ok poi c'era Eugenio con me lo sto sempre proprio questa è la mappa del perché non lo sapesse sono succhi energetici e c'è che ragazzi quando stiamo da soli in una zona ragazzi prima se volete essere saltati iscrivetevi al mio canale iscrivetevi anche al canale di mio fratello si chiama Nicola Signora si chiama no ma la iscrivetevi al mio fratello ed è il secondo no 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 è il secondo c'è c'è uno con la sua faccia poi poi andate giù è quello iscrivetevi però iscrivetevi anche al mio canale lasciate like sui video e ai miei video però lui ne ha fatto ancora un video lasciate like commentate e iscrivetevi lasciate un bel mi piace e vi senterò ora non vengo a fare saluti quindi ci manca a me 32 trofei per me però a mille ok ragazzi ora noi non parleremo e cercherò di concentrarci vero no come no 3 2 no vado aiuto stai lì io sto da questo è il primo qua e io muoio e madonna chi se ne come chi se ne ma tanto mi faccio lasciare io chi deve? eeeh quanto fa vuoi la? chi è? non devi dire che vuoi guarda niente ahia io scappo io mi sono l'energia ahia ci muore ci muore ok non sono vivo non fermatelo io mi sono l'energia io mi metto a camperare qui e ragazzi ci vediamo quando mi vedo che è venuto ok ragazzi è venuto ok ragazzi è venuto ma che schifo vabbè 24 ne mancano 28 ragazzi ci vediamo ora quando ne mancano più o meno 10 ragazzi come potete vedere 993 non ne abbiamo perso nemmeno una vero? ovviamente ragazzi metodo infallibile è camperare non lo so raga vi dico una cosa un secondo raga noi allora come si fa la prima cosa? non lo so vabbè dovre ok questo qua dopo questa allora secondi 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 e basta un terzo e l'altro e ragazzi bisogna sapere se avete sentito quella è la nostra madre ehm o come vedete come le avevo detto sono 99 ragazzi ne dovrò bastano 7 quindi primi non lo so se io non voglio cambiare il blog perché ho paura raga ma perchè non ce l'ho 6 6 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 9 9 10 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 11 12 12 12 12 12 13 14 12 15 16 29 14 io ho preso il succhetto ho preso il succhetto dov'è colt? dov'è? no no per favore dove sta? dove è? all'altra dove? eccolo ok uscite là si no no ragazzi vanno arrivare Cerci dai ragazzi può fare ragazzi vi faccio vedere 999 999 ragazzi se ne sono Cerci io arrivavo in 447 e poi oggi poi 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 vediamo se ci sono che mi avessi 150 ragazzi non parliamoci non c'è anche dopo questa piccola no io lo so così arrivo anche a Milia in realtà io volevo arrivare a Milia perché spero vabbè scordo finale dai dai ce la dobbiamo fare ce la dobbiamo no secondi secondi adesso lo proviamo ed ecco qui è un blocco 1300 oggi già fanno due tre blocchi eh eh sì tre due uno prendi due ragazzi scusate se non vi ho fatto vedere tutta l'animazione ma oggi piccoli problemi ed ecco qua andiamo a prenderlo oh vada per vedere come si è via i trofei vabbè ovviamente con il secondo posto io sono arrivato qua due cacchi dove adesso qua profilo no profilo si vede sotto il riposo accanto al riposo accanto al codice mio quindi le cose più 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 ok ok proviamo bloc certo proviamo bloc e soprattutto l'oraggio più lungo di colt vero questo è il ragione di bloc eccolo è la prima volta che lo utilizzo sul mio account perché l'ho usato su quello di un saccello finalmente sono arrivato mio ok io me ne vado ciao forse no no io no raga 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 questa qui la dobbiamo vincere perché abbiamo bloccato bloc io mi sto facendo dei trick la raga e io ho meno vita però e non è chi se ne prega tu hai il periodo di power up e tu male basta muore rip io c'avevo pochissimi no 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 tara di melma ah ti è aiutami aiutami terzi più quattro dai l'ultima almeno vediamo se riusciamo ad arrivare la me sui mille e dieci entro domani arriviamo sui mille e cento a me mi dice questo c'era da noi oggi non si dice non si dice non si dice 5 sul mio account 5 sul mio account e 5 sul suo account l'ho preso in una maniera epica perchè era di di blocco per la ahia io per l'ora non ho mai usato la città di blocco perchè tu hai tre paura più due ah ecco c'ho problemi a camminare non so perchè ma vabbè secondi più cinque quasi livello 26 è il primo dal grado 29 dal grado 9 oggi al grado 12 e ragazzi spero di che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo con un prossimo video bella